Come posso fare per fotografare i batteri? Nel caso la mia fotocamera dovesse cadere nell'acqua, è una buona idea schiaffare risobasmati dentro in ogni intercapedine? Se io dovessi comprare una macchina fotografica molto costosa, i clienti comincerebbero ad arrivare da me a frotte automaticamente solo per il fatto che hanno sentito dire in paese che ho comprato una macchina nuova? Nel corso di questo video vado a rispondere alle domande che ho trovato più interessanti che mi sono state rivolte sul canale di recente, quindi vado a selezionarne alcune e vado a portarvi una risposta che avrei fatto fatica a far stare negli shorts di 30 secondi o 60 secondi. Quindi nel corso di questo video vado a portarvi delle risposte un po' più complete, domande a cui avrei fatto fatica a rispondere stando nei 60 secondi di uno shorts verticale. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia professionalmente per le aziende. Spesso mi fate delle domande inerenti alla strumentazione, utilizzi vari, tecniche particolari. Io cerco di rispondervi con degli shorts verticali, motivo per cui vi invito a iscrivervi così se mi avete fatto una domanda poi non ve la perdete. Però certe volte faccio fatica a dare una risposta stando dentro nei 60 secondi, per cui oggi ho selezionato alcune domande che secondo me meritavano una risposta più lunga e ve le porto qui sul canale a beneficio di tutti quanti. Partiamo con la prima domanda. Io ho una Canon EOS R10, faccio prevalentemente fotografia macro. Mi conviene comprare una R7? Mi conviene comprare una full frame? O mi conviene tenermi la mia R10? Perché questa è una domanda che reputo complessa e degna di una risposta un po' più articolata? Perché la questione è molto sottile, ovvero io ho una R10, la macchina è già bella, macro io la sto già facendo. Ora è evidente che se io compro una R7, voi lo sapete che io amo la R7, è quella che sto usando adesso per filmare. Una macchina bellissima, io la adoro, impazzisco per questa macchina, quindi figuriamoci se ne parlo male. Non ne parlerò male, tanto meno in questo video. Però dobbiamo anche essere onesti. Se noi abbiamo una R10, l'abbiamo pagata 1200, non mi ricordo cos'è. Compriamo una R7, la paghiamo 1500, quindi totale abbiamo speso 3000 euro. Le nostre foto sono migliorate? Probabilmente no. Facciamo le stesse cose di prima, più o meno. Abbiamo qualche megapixel in più, abbiamo una macchina che è più bella, sì, però se parliamo di qualità vera e propria, non c'è tutto sto miglioramento. C'è un miglioramento perché c'è, perché R7 è più bella di R10, ma il miglioramento è piccolo così. Però noi abbiamo speso 1500. Per questo motivo sono molto restivo a dire si comprala. Cioè se uno mi dicesse, devo prendere una macchina per fare macro, cosa mi consigli? Va bene la R7? Boh sì, la R7 va bene, prendila pure. Bella macchina, 30 megapixel, gli metti un'ottica macro, puoi anche fare un bel ritaglio per ingrandire di più, va benissimo. Però partendo già da un R10, prendere una R7, stai spendendo tanti soldi in relazione a quel pelino di qualità in più che ottieni. È quasi un peccato. Cioè sarebbe stata da prendere subito. Prenderla adesso stai spendendo molto in relazione a quello che ti darebbe in più. Vale la pena prendere una full frame? Quindi magari facciamo un salto di qualità, prendiamo qualcosa di ancora più performante. Guarda, io ti dico, se prendi una full frame, tanto per prenderla, secondo me no. Nel senso che se tu da una R10 passi a una R6, non ti cambia chissà che. Soprattutto per fare macro, non ti cambia assolutamente chissà che. Siamo lì, cioè non me la sento di dire che avrai automaticamente delle foto più belle perché hai preso una R6. Me la sento di dirti che avrai automaticamente delle foto più belle se prendi una R5. E però stai spendendo 4000 euro di corpo macchina. A quel punto però l'upgrade lo senti. E' per questo che mi prendo un po' più di tempo per dare questa risposta. Perché se noi facciamo un upgrade, dobbiamo capire questa cosa. Se io faccio un upgrade e passo da una fotocamera a quella immediatamente successiva, l'upgrade di solito è poco. E quindi può valerne la pena. Faccio un esempio, io ho una R6, potrei passare all'R6 Mark II. Spenderei un sacco di soldi e avrei una cosa che è molto molto simile. Potrei farlo perché la Mark II si surriscalda di meno. Quindi potrebbe avere senso. Potrebbe. Sono tantissimi soldi per avere solo quella roba lì, eh. Infatti non lo faccio. Se no prendevo direttamente la Mark II se avevo quel pensiero. Non lo faccio. Potrei farlo se quella cosa per me fosse assolutamente determinante, ma conscio del fatto che sto spendendo una barca incredibile di soldi per avere solo quel pezzettino in più. Se voglio un upgrade vero, e per vero intendo un upgrade che sono in grado di misurare, che sono in grado di vedere con i miei occhi, un upgrade che mi dia soddisfazione. Secondo me, dalla R10, per fare un upgrade veramente consistente, sì, posso passare alla R6 Mark II, per esempio, ma il vero upgrade sarebbe passare alla R5. Lì veramente spendi tanti soldi, però dici, cavolo, la vedo la differenza rispetto a prima. Perché il rischio, per quanto mi riguarda, il rischio è che tu fai un upgrade, hai una macchina più bella, magari sei più contento, ti sei coccolato, cioè ti piace questa cosa. Però poi confronti le foto e dici, ho speso 1.500, è uguale a prima. Non è cambiato granché, il rischio è quello. Secondo me vale sempre la pena fare un upgrade, e attenzione, ti prendi una macchina più bella, siamo più contenti tutti, abbiamo fatto qualcosa anche per noi stessi, per coccolarci, sono d'accordissimo. Però il rischio è sempre quello, che poi guardi le foto e non vedi differenza tra prima e dopo. Per quanto ti sia divertito di più, ti piace di più la macchina, però non vedi la differenza. Se vuoi veramente vedere la differenza, allora passi a una R5, altrimenti risparmi un sacco di soldi e ti tieni quello che hai, perché secondo me va bene. Prossima domanda, qui stiamo parlando di microstock. Ragazzi, per chi non lo sapesse, il microstock è quella branca della fotografia, per cui noi possiamo prendere le nostre fotografie, metterle invece che su Instagram, metterle su delle piattaforme online dove qualcuno in giro per il mondo ce le può comprare. Vi lascio un link in descrizione da cui potete direttamente iscrivervi a una di queste piattaforme che è Shutterstock. In tanti l'avete già fatto, è una cosa che secondo me vale la pena provare per gioco, non aspettatevi di fare grossi guadagni, però per gioco potete provare a caricare le vostre foto e vedere se ve le accettano. Se ve le accettano vuol dire che siete bravi, se non ve le accettano vuol dire che dovete migliorare. Prendetelo come un gioco. Ora, la domanda però è un'altra, ed è, ma quando io guadagno dei soldi da queste piattaforme, li devo dichiarare? Allora ragazzi, ne abbiamo già parlato tante volte, cerco di darvi un po' un sunto di quello che è già stato detto in altri video. Per lo Stato italiano io devo dichiarare qualsiasi cosa, quindi la risposta è certamente sì, li devo dichiarare. Attenzione, io l'altro giorno, un po' di tempo fa ormai, stavo andando a fare benzina e c'era uno di quegli sportelli automatici. Quindi sportello tirato verso il cliente, tu metti i soldi, spingi il cassetto e l'inserviente prende i tuoi soldi e a quel punto ti abilita la pompa. Io vado a questo cassetto, col portafogli in mano, vedo che ci sono 10 euro dentro nello sportello, lasciati dal cliente prima, da qualcuno che se ne è già andato. E a questo punto non mi sento particolarmente in colpa nello spingere il carrello già pieno verso l'inserviente e mi faccio 10 euro di benzina con 10 euro che ho trovato già nel carrello. Per lo Stato italiano io quei 10 euro li devo dichiarare. Non ci sono cavoli ragazzi, lo Stato italiano vuole mettere le mani su ogni singolo penni che noi troviamo o mettiamo in tasca. Tenendo ben conto anche che quei soldi sono già tassati perché chi li ha guadagnati è già stato tassato e chi quei soldi li spende paga anche l'IVA. Quindi le tasse si pagano due volte in Italia. È assurdo, è una porcata, siamo tutti d'accordo, però io sono qui a darvi la mia risposta. Quindi qualsiasi cosa vi mettiate in tasca, fosse anche un 20 centesimi bucati trovati per terra, lo Stato italiano vuole la sua fetta. Appunto, detto questo, io ho dichiarato quei 10 euro? No, non li ho dichiarati. Voi dovete dichiarare le entrate da microstock? Sì, quando cominciate a guadagnare tanti soldi con il microstock sicuramente vi mandano un foglio, l'agenzia vi manda un foglio dove c'è scritto nell'anno tal dei tali, il fotografo tal dei tali ha guadagnato questa cifra e voi portate quel foglio dal commercialista che vi dirà cosa dovete pagare per le tasse sul diritto d'autore. Certo, ci sono da pagare delle tasse. Vi dico anche una cosa, secondo me non ha molto senso andare a pagare le tasse su 10 euro di microstock che avete guadagnato il primo anno, perché il primo anno che entrate guadagnerete 10 euro, ma per il rotto della cuffia. Per quelle cifre lì, se sono 10 euro, secondo me non li dichiarate e nessuno vi dirà mai niente perché sono veramente 10 euro, cioè chi se ne frega. Nel momento in cui cominciate a guadagnare 5.000 euro l'anno è lì sì che bisogna dichiararli, perché lì diventa un'entrata consistente e ripetuta nel tempo. Quindi lì assolutamente sì bisogna dichiararli. Però a quel punto, quando e se arrivate a guadagnare delle cifre interessanti non è più un problema pagarci le tasse perché uno dice va bene ho guadagnato 5.000 euro, anche che devo pagare 2.000 euro di tasse mi tengo comunque 3.000 euro, sono 3.000 euro più di prima. Va bene, cioè le pago quelle tasse se pagando quelle tasse mi lasci 3.000 euro, sono 3.000 euro che l'anno scorso io non avevo, quest'anno invece ce li ho quindi se questa è la legge io ci pago le tasse e mi tengo purtroppo solo i 3.000 invece dei 5.000 che mi sarebbe piaciuto moltissimo potermi tenere perché me li sono sudati e guadagnati io ma questa è una mia opinione personale. Quindi ricapitolando, se guadagnate un cavolo fregatevene quando cominciate a guadagnare tanto, a guadagnare tutti i mesi, sì bisogna dichiararli non è necessario avere per forza la partita IVA per fare microstock perché i pagamenti non sono a fronte di un lavoro di una prestazione ma è diritto d'autore quindi si può incassare anche senza la partita IVA ad ogni modo io qualche tempo fa avevo fatto una collaborazione con la piattaforma FiscoZen e mi ricordo che c'era la consulenza gratuita per cui anche di quello vi lascio il link qui sotto da qualche parte probabilmente c'è ancora questa cosa della consulenza gratuita se vi fate fare la consulenza, gli spiegate bene chi siete, cosa volete fare loro vi dicono che inquadramento potete avere e come si può risolvere la cosa nel migliore dei modi meglio di quello che potrei fare io perché non è il mio mestiere, io non me ne intendo prossima domanda, parliamo del flash stiamo parlando in particolare di allontanare il flash dal nostro corpo macchina sapete che i flash montati sulla camera creano il problema degli occhi rossi e magari delle ombre troppo rasenti dietro al nostro soggetto perché sono allineate col nostro obiettivo abbiamo l'obiettivo qui, il flash qui sono troppo allineati per cui se noi allontaniamo il flash dall'obiettivo otteniamo degli effetti diversi e di solito migliori nella domanda in particolare si fa riferimento a una staffa del brand newer che servirebbe per allontanare ulteriormente il flash e la domanda è ma ne vale la pena? la mia risposta personale è io non la uso quindi per me non ne vale la pena se no me la sarei già comprata perché immagino che abbia un costo irrisorio ne vale la pena, dipende da cosa vogliamo ottenere e è una cosa molto sottile secondo me perché la differenza sarà molto poca cioè intendiamoci, stiamo allontanando il flash probabilmente di una decina massimo ventina di centimetri non penso che sia una staffa chilometrica quindi allontaniamo il flash di un po' dal nostro corpo macchina ma non di tanto non è come avere una luce off camera è semplicemente più lontana rispetto all'asse del nostro obiettivo ne vale la pena, dipende se siamo scontenti dei risultati che riusciamo a ottenere col flash montato sulla slitta possiamo provare e può essere che questa soluzione ci fornisca un qualcosa che diventa poi una nostra cifra stilistica e ci permetta di fare qualcosa che poi proponiamo con successo ai nostri clienti o amici se è per quello e ci permette di creare qualcosa che prima non saremmo riusciti a fare dobbiamo anche capire se questo qualcosa ci piace se ne vale la pena e secondo me il modo migliore per capirlo è utilizzare un trigger e tenere il flash distante facciamo delle prove se tenendo il flash distante otteniamo un effetto migliore a quel punto una staffa ci può servire perché così ci liberiamo una mano e abbiamo il flash più distante ma con le mani libere tanto il trigger secondo me lo possiamo sempre riutilizzare oppure meglio ancora potremmo farcelo prestare da qualcuno per fare questa prova se non vogliamo spendere soldi in più però secondo me aiuta molto a capirlo dico questo perché io il trigger ce l'ho già quindi non ci metterei niente a fare la prova per capirlo secondo me cambia veramente poco è una sottigliezza più che altro bisogna capire questa staffa se serve perché ho visto delle staffe che servono per cambiare l'orientamento cioè sapete io scatto in orizzontale flash sulla slitta e va bene ma se io scatto in verticale e il flash viene di lato e così non va bene io ho visto delle slitte che potevano ruotare il flash e riportarlo in posizione verticale anche quando stiamo scattando in verticale quello sì che sarebbe interessante perché a quel punto io giro muovo la staffa e non devo più orientare la testa del flash ma ho una staffa che mi permette di cambiare la posizione del flash quello sarebbe interessante anche lì ci serve? dipende io quando vado a fare fotografia corporate tendenzialmente le faccio orizzontali quindi a me non servirebbe a niente dobbiamo capire se a noi serve nel nostro tipo di fotografia per quello che facciamo ultima domanda e qui chiudiamo ma prima vi voglio fare una precisazione non so se notate differenze ma io sto utilizzando la luce la RC100B Coblite VideoLED di SmallRig che mi è stata mandata che recensisco in un video a parte che se mi ricordo vi lascio linkato qui da qualche parte è una luce che mi sta dando diverse soddisfazioni perché ricrea più o meno la stessa qualità la stessa intensità luminosa della luce che utilizzavo prima però utilizza un quarto dello spazio è molto più piccola la luce in sé è molto più piccolo il diffusore il diffusore più piccolo genera delle ombre un po' più nette sul mio viso però globalmente direi che il risultato non si discosta troppo quindi ci tenevo a farvelo notare a ricordarvi che sto lavorando e ho recensito questa luce che è una collaborazione di cui sono abbastanza contento fra l'altro SmallRig è un brand che io ho sempre conosciuto e che utilizzavo da ben prima che mi proponessero di collaborare quindi quando un brand che già mi piace mi propone qualcosa mi dice vuoi collaborare ti mandiamo da provare questa cosa io dico cavolo bella la vorrei stavo già pensando non dico stavo pensando di comprarmela però l'avevo già vista in catalogo bellina uno è contento quando succedono queste cose quindi non ho nessun problema a parlarvene bene passiamo però a quest'ultima domanda che questa è spinosa e l'ho tenuta per ultima proprio per questo se non sbaglio esistono delle lenti che non croppano su APS-C e sono le ottiche fatte apposta per APS-C allora questa è un commento non è una domanda è un commento che arriva in risposta ad altre cose che erano state commentate sotto un video bisogna fare un po' di chiarezza ovvero nel momento in cui noi stiamo usando un sensore APS-C il sensore APS-C si dice che croppa nel senso che ha un fattore di 1,6 o 1,5 a seconda del brand significa che se noi montiamo un'ottica che si chiama 50 mm dobbiamo moltiplicare quel 50 per 1,6 nel momento in cui la usiamo su full frame 50 mm è 50 mm perché le ottiche vengono progettate con una nomenclatura che si basa sul sensore full frame se noi utilizziamo un'ottica progettata con nomenclatura per sensore full frame e la utilizziamo sul sensore APS-C dobbiamo moltiplicare per 1,8 ora dove sta l'equivoco in questo commento l'equivoco sta nel fatto che sì esistono delle ottiche che sono pensate apposta per APS-C e nel caso di Canon sono quelle che finiscono per S RF-S e EF-S significa che sono delle ottiche progettate in maniera diversa sono un po' più piccole e sono adatte a coprire il sensore più piccolo dell'APS-C non sono adatte al sensore più grande della full frame quindi se da un lato è vero che sono delle ottiche progettate per APS-C dall'altro lato però è vero anche che croppano ancora nel senso che sono progettate anch'esse con la nomenclatura del full frame se noi abbiamo un 10 mm su APS-C quel 10 mm si chiama 10 mm ma non è un 10 effettivo somiglierà di più a un 16 1,6 quindi questo per dire cosa è vero che ci sono delle ottiche fatte apposta per APS-C e spesse volte queste ottiche cercano di ricreare il rapporto originale che c'era su full frame l'esempio lampante che mi viene in mente è il 17-55 di Canon che è un EF-S quell'ottica riportata su APS-C mi crea più o meno lo stesso rapporto di un 24-70 sì in realtà è un 28-88 però siamo lì, è molto vicino quindi le ottiche per APS-C cercano di riprodurre quella che è l'ottica professionale pensata per full frame però attenzione un 17-55 non è un 17-55 su full frame si chiama così ma su full frame diventa un 28-88 quindi comunque il fattore di crop c'è sempre anche se stiamo usando delle ottiche progettate per APS-C molto bene signori detto questo io credo che abbiamo esaurito le domande più interessanti per oggi anche perché sennò questi video diventano infiniti fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete ulteriori domande se ci sono altre cose che ho dimenticato se ho detto cappellate ne parleremo come sempre nei commenti iscrivetevi per non perdervi le risposte alle vostre domande sotto forma di shorts verticali io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me qui sul canale vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao